Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Le recenti indagini hanno rivelato che la morte di Pierina Paganelli è presumibilmente opera di un terzo individuo. Al momento, è complicato identificare l'autore del delitto. Gli investigatori hanno alcuni sospetti in mente, ma nessuno è stato formalmente accusato. Attualmente si stanno verificando gli alibi di tutti gli interrogati, molti dei quali avevano stretti legami, anche familiari, con la vittima, una donna di 78 anni. A Rimini, la comunità è ancora scossa dall'omicidio di Pierina, trovata senza vita in un garage in via del Ciclamino. E come Rimini ad essere scossa è l'Italia intera. Le indagini si stanno focalizzando su Nora Manuela Bianchi, moglie del figlio di Pierina, Giuliano Saponi, e anche sua vicina di casa. Gli investigatori stanno esaminando attentamente le sue dichiarazioni e recentemente sono emersi dettagli che potrebbero essere cruciali per il caso. Secondo il resto del Carlino e il Corriere della Romagna, l'omicidio sarebbe avvenuto la sera prima di una riunione dei testimoni di Geova, a cui appartiene tutta la famiglia della vittima. La riunione prevedeva la partecipazione di tutti i saggi del Consiglio dei Testimoni di Geova di Miramare, dove si sarebbe dovuta discutere proprio di Manuela. Questo elemento sta ora attirando l'attenzione degli investigatori, poiché ogni dettaglio potrebbe essere decisivo per il caso. I saggi del gruppo, interrogati come persone informate sui fatti, hanno tuttavia mantenuto il segreto ministeriale. Dalle indagini emerge che Manuela era molto preoccupata per l'esito di quel Consiglio.